Ciao a tutti e buon venerdì, oggi prima di sistemare la cucina vorrei dedicarmi a fare un po' di pulizia di quelle zone che avrei voluto fare durante la settimana ma che non sono riuscita a fare a causa di un raffreddore abbastanza persistente, ma oggi le energie sono tornate per cui iniziamo, vi lascio al video, a dopo! Grazie a tutti! 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 Mestieri finiti per il momento, io vi ringrazio per aver guardato questo video e spero che vi sia piaciuto, vi abbia tenuto buona compagnia, vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video! Ciao!